Sono orgoglioso di essere stato presidente di questa terra, di essere stato votato da 1.800.000 siciliani che mi hanno voluto. Se tornassi indietro rifarei l'esperienza di presidente pur sapendo che quell'esperienza mi riporterebbe in galera, la rifarei perché non c'è nulla di più bello e di più orgoglioso di poter rappresentare la propria terra e la propria gente. Se fossi un santo farei rivivere la democrazia cristiana perché credo sia stato un grande partito, ma per quel che mi riguarda non ho né voglia e credo di non essere neanche capace di poter tornare a fare politica e rimettere su un partito. Questa politica di adesso non la capisco, non mi appartiene, è diversa da quella che facevo io, non serve che io ci sia e soprattutto io non voglio più esserci. Non sarebbe male un presidente donna perché non c'è mai stato in Sicilia, ma non serve sapere se è uomo o donna, serve sapere che ama la Sicilia e lavora per costruire, produrre e rischiare.